La posizione del bambino di 12 anni che era a bordo della Passat sfrenata che lo scorso 8 maggio uccise il piccolo Tommaso D'Agostino, ferendo altro i suoi compagni all'interno dell'asilo primo maggio a Pile, sarà archiviata. Il procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori, David Mancini, ha chiesto l'archiviazione, come rivela il quotidiano il centro, delle accuse di omicidio colposo e lesione a carico del bambino, che peraltro, avendo meno di 14 anni, non sarebbe neanche imputabile. L'unica indagata rimane la mamma, la donna di 38 anni che aveva parcheggiato l'auto, che poi si è sfrenata nel parcheggio lasciando il figlio dentro. La donna ha sempre sostenuto di aver inserito la marcia, dimenticando però di schiacciare il freno a mano che nel caso della Passat era elettronico. Però c'è ovviamente una parte d'inchiesta che va avanti. Come si sa, il perito della procura Cristiano Ruggeri ha effettuato una perizia sulla vettura killer. Aveva chiesto 90 giorni che stanno per scadere. La macchina piombò su una recensione, non ancorata al muro, ma a terra, investendo gli ignari bambini che stavano giocando nel piccolo parco giochi dell'asilo. Sia il comune che la scuola hanno già consegnati i documenti che contengono i piani di sicurezza, due distinti. La gestione infatti è mista, nel senso che il nido è gestito dal comune, mentre la materna è di competenza del Mazzini. Sul parcheggio pare ci siano state diverse osservazioni. Fa parte di una struttura recintata con un muro di cemento in rete, mentre il giardino era delimitato dalla recensione, che è stata sfondata dalla Passat, la struttura è di proprietà comunale. L'inchiesta va avanti perché, oltre a capire come l'auto si sia sfrenata in base alla perizia, una delle valutazioni da fare riguarda appunto il parcheggio, ma anche l'allestimento della piccola area giochi all'esterno della scuola dell'infanzia, proprio al ridosso della discesa della strada che ha percorso la macchina impazzita, andando poi ad investire piccoli alunni. Una tragedia impressa nella memoria collettiva che piange ancora al piccolo Tommaso che avvicina la famiglia e chiede per le scuole la sicurezza al primo posto. Grazie.